Benvenuti a tutti i partecipanti! Prima di iniziare il webinar, alcune comunicazioni di servizio. Sul vostro monitor è presente un box nel quale potrete digitare le domande che desiderate rivolgere al relatore e alle quali verrà data risposta al termine della presentazione. Tali domande compariranno in forma anonima. In caso di problemi di audio o video durante la presentazione, vi consigliamo di ricaricare la pagina premendo F5 oppure uscire e rientrare nella piattaforma chiudendo qualsiasi altro programma e di scollegare altri dispositivi non indispensabili. Ad ogni modo, nei prossimi giorni vi invieremo una comunicazione contenente il link con la registrazione del webinar. È per me un piacere avere oggi l'opportunità di presentare la professoressa Gianna Maria Nardi, dottore in igiene dentale che ha fatto della ricerca e della promozione e divulgazione delle conoscenze della prevenzione e della salute e gli obiettivi primari della sua vita professionale. Dal 2004 svolge l'attività di ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Facoltà di Medicina e di Odontoiatria della Sapienza, Università di Roma. Dai primi anni 80 ha ricoperto il ruolo di docente nelle discipline delle scienze dell'igiene orale presso diverse università, tra cui l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi di Mania Grecia di Catanzaro e ancora oggi presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e l'Università di Modena e Reggio Emilia, su autorizzazione dell'Università Sapienza di Roma, dove ricopre il ruolo istituzionale di docente nel polo A del corso di laurea in igiene dentale e direttore didattico e docente del polo B. È inoltre docente al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie e tecniche assistenziali della Sapienza Università di Roma. Dal 2008 è direttore del Master di primo livello in Tecnologie Avanzate delle Scienze Orale e della Sapienza di Roma, considerato nello scenario dei percorsi formativi sul tema dell'igiene orale, di grande valenza per la professione per l'approfondimento nel campo dei protocolli operativi di prevenzione avanzati applicati alla pratica clinica. Socia fondatrice di numerose associazioni di settore, tra cui per esempio l'AIDI, associazione di igienisti dentali italiani, di cui è stata presidente dal 1981 al 1996. Nutre particolari interessi per le tematiche di prevenzione per la salute e il benessere del cavo orale e dei corretti stili di vita per la salute sistemica. Partecipa in qualità di relatore a numerosi convegni e congressi nazionali e internazionali sull'igiene orale, promotrice di diversi progetti dedicati alla salute del cavo orale, autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e libri di testo e membro del comitato di redazione in diverse riviste di carattere scientifico e divulgativo. Lascio ora la parola alla professoressa Gianna Maria Nardi. Intanto benvenuti a tutti e ringrazio la Sinona Desplai per avermi dato questa bella occasione di parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché credo che sia la centralità di quello che deve essere un lavoro fatto, espresso con efficacia ed efficienza, e cioè l'interazione tra l'ergonomia, la tecnologia e il debrime paradontale. Questi sono argomenti che a me sono cari soprattutto perché in qualità di presidente dell'Accademia sulle tecnologie avanzate nelle scienze di generale, tutto ciò che può approfondire la conoscenza della tecnologia chiaramente è un valore aggiunto che ci dà l'opportunità di fare al meglio il nostro lavoro. Intanto il nostro lavoro è molto difficile, perché? Perché in realtà noi andiamo a costruire la salute sul territorio. Adesso, espresso in tanti ambiti, nell'ambito privato, chi nell'ambito pubblico, una cosa è certa, che è un lavoro che ci deve permettere di poter offrire a tutte le fasce d'età un certo servizio di benessere improntato sulla salute del caorale che noi sappiamo essere in link con la salute di tutto l'organismo. Questa è l'evidenza scientifica, ce l'ha ben dimostrato. Ma sappiamo che è un compito molto difficile da portare avanti. Perché? Perché in realtà abbiamo diversi mutamenti. Vediamo che c'è stata l'evoluzione delle conoscenze sui sistemi biologici, sulle tecnologie e quindi di conseguenza anche sugli approcci terapeutici. A questo proposito mi permetto di ricordare a tutti quanti che c'è il famoso appuntamento annuale che abbiamo con l'Accademia di Prevenzione Odonto-Somatologica Il Chirone che il 17 e il 18 settembre tratterà proprio dell'evoluzione di tutti questi approcci che per forza di cose sono condizionati da quello che è l'ambiente da quello che è l'ambiente della cultura scientifica dell'approccio che possiamo avere grazie alle tecnologie che migliorano sempre il nostro lavoro. E quindi sappiamo che dobbiamo mantenere alcuni standard di qualità ma soprattutto dobbiamo sostenere quello che è per il paziente il follow-up. Noi sappiamo che in questo momento di pandemia siamo tutti in sofferenza. Perché? Perché in realtà cominciano ad esserci delle criticità proprio per i follow-up dovuti anche, adesso siamo diciamo la maggior parte dell'Italia in zona rossa per cui ci manca proprio questa sorta di facilità nel seguire il paziente. Una cosa è certa che se abbiamo poggiato il nostro lavoro su protocolli operativi fondati sull'evidence-based medicine possiamo stare sicuri che sicuramente il paziente riuscirà anche con quegli interventi di carattere domiciliare a mantenere lo stato di salute e che noi gli abbiamo preparato in studio. Peraltro è in pubblicazione l'opportunità del DOMA. Il DOMA è un acronimo di un approccio clinico che permette di avere attraverso la telemedicina delle situazioni di follow-up condivise in rimoto. Purtroppo la pandemia ci ha messo a disposizione questi mezzi, queste tecnologie che ci permettono comunque di ottemperare a tutti quei controlli che sempre sono dovuti se si vuole fare una prevenzione personalizzata. Che sia poi in prevenzione primaria sul paziente sano piuttosto che in prevenzione secondaria su quelle patologie come la gengivite che sono reversibili o, cosa ancora più ardua, nel mantenimento della prevenzione terziaria. Cioè quell'approccio clinico che ha avuto bisogno della riabilitazione da parte dell'odontoiatra e lì dove l'igienista deve riuscire a preparare dei piani terapeutici ideali e quindi personalizzati non solo da paziente a paziente, perché siamo tutti diversi, ma soprattutto anche sullo stesso paziente la cosa opportuna sarà quella di monitorare l'evoluzione della situazione clinica del cavo orale. Perché quando parliamo di terapia parliamo proprio di quei metodi di cura delle patologie che permettono di migliorare lo stato di salute. E questo ce lo dice banalmente il vocabolario della lingua italiana. Quindi cosa vuol dire prevenzione personalizzata? Si parte sempre da un attento esame clinico dentro parodontale con quello screening anche delle patologie sistemiche e andare praticamente a fare una diagnosi precoce su tutte le lesioni cariose e praticamente anche andare a stabilire il rischio specifico del paziente sul piano di trattamento tailor made anche dei tessuti parodontali. E questo come vedremo in seguito ce l'ha praticamente ben sottolineato la nuova classificazione parodontale che in realtà ha tra virgolette allargato l'orizzonte verso proprio questi livelli di attenzione proprio per andare ad offrire un tipo di approccio terapeutico assolutamente personalizzato. In realtà il ruolo della prevenzione qual è? Quello di intanto prendersi in cura un paziente sano per lasciarlo sano per tutta la vita ma soprattutto nel caso in cui il paziente ha avuto già delle riabilitazioni come nel caso dei trattamenti parodontali dobbiamo fare in modo attraverso una delle situazioni cliniche più importanti e che è comunque rimane la terapia parodontale non chirurgica l'interruzione del ciclo delle patologie orali. Ancora sappiamo che nella terapia parodontale non chirurgica il grande ruolo qual è? Quello di andare a migliorare la situazione dei tessuti dentoparodontali proprio per andare a ridurre gli effetti che questi batteri effettuano sui tessuti stessi. Sappiamo che un nuovo orizzonte è quello del microbioma. Allora il microbioma che cos'è? In realtà è quel patrimonio genetico che ci dona alcuni batteri in particolare che fanno parte del nostro patrimonio genetico. Cosa succede? Che poi abbiamo gli eventi esterni che possono essere identificati come gli stili di vita che assolutamente ci vanno a trasformare il microbioma in un microbiota che è particolare ed è condizionato da quello che praticamente noi abbiamo come stili di vita di generale, come stili di vita per esempio anche di genere alimentare. L'alimentazione oggi è diventata da essere un po' la scenerentola della prevenzione è diventata invece molto importante in tutte le branche della medicina. Un'altra cosa importante da considerare è che noi dobbiamo utilizzare gli approcci clinici che abbiamo a disposizione, qui la terapia parodontale non chirurgica è sicuramente al centro dell'attenzione per lasciare che questo microbiota possa rimanere in equilibrio. Significa che quando noi siamo in una situazione di equilibrio batterico all'interno del cavo orale, di controllo batterico nel cavo orale, noi abbiamo una situazione di eubiosi. Nel momento in cui creiamo attraverso proprio corretti stili di vita e quindi magari un non mantenimento dei controlli, quindi dei follow up ripetuti di terapia parodontale non chirurgica, che cosa succede? Che facilmente andiamo in disbiosi, quindi andiamo a perdere quell'equilibrio che ci permette di mantenere i tessuti in salute. Allora significa che se noi facciamo riferimento agli studi epidemiologici, abbiamo che il 90% dei pazienti adulti è affetto dalla gengivite e per fortuna è reversibile come abbiamo detto anche con una buona terapia parodontale non chirurgica. Ma se parliamo di parodontite grave, lì il discorso è un po' più impegnativo perché in realtà il 15% degli adulti che ne è affetto ha bisogno di pratiche cliniche che vadano ad arrestare che cosa? La progressione della patologia. Quindi significa che non tutti i pazienti che sono affetti da gengivite arrivano a produrre una parodontite irreversibile. Questo dipende da che cosa? Anche dalle condizioni sistemiche. Questo significa, ecco quello che vi dicevo prima, il riferimento che avevamo prima con la vecchia classificazione parodontale faceva riferimento a queste situazioni che già conoscevate, ma vediamo cosa è cambiato. Nella nuova classificazione in pratica abbiamo quattro percorsi diagnostici, no? Quindi abbiamo la salute parodontale gengivite, le parodontite, le recessioni gengivali, le mucusite e le parodontite. Attenzione, con la nuova classificazione cosa è modificato? C'è stata praticamente una stadiazione e un grado delle patologie parodontali esattamente come viene fatto in oncologia. Questo significa che ciò ci permette di andare ad individualizzare la diagnosi e quindi fare una perfetta azione clinica personalizzata che devi andare a sottolineare, a rilevare soprattutto la multifattorialità delle terapie, la complessità della gestione e soprattutto il rischio di recidiva o progressione della malattia perché noi sappiamo che questo è il compito più difficile che abbiamo, arrestare la progressione della patologia. E allora andandola ad osservare più attentamente, parliamo degli stadi che sono quattro e vanno praticamente a definire la gravità come perdita di denti e la complessità di gestione. Vediamo che il grado invece va da A a C e definisce invece quanto sia veloce la progressione della patologia. Non solo, ma allo stadio c'è da aggiungere anche l'estensione che deve essere considerata localizzata se coinvolge all'interno del cavolare meno del 30% dei denti. Invece viene considerata generalizzata se sono coinvolti sia molari che incisivi attenzione con percentuali maggiori del 70%. Allora, c'è stata un'evoluzione del biofilm batterico? Assolutamente sì, perché siamo partiti negli anni 70 a considerare solo la presenza della placca batterica nel cavolare. Poi si è passati negli anni 80 a considerare invece la qualità del biofilm batterico e quindi nasce l'approccio al biofilm batterico, nasce il concetto di biofilm batterico ad arrivare oggi a fare una valutazione su cosa? Sulla specificità batterica. Quindi nasce l'attenzione al rispetto delle eubiosi, quindi alla valutazione del microbioma, ma soprattutto del microbiota, perché per andare a condizionare il microbiota c'è bisogno di quegli stimoli al correggere quegli stili di vita errati. Quindi dobbiamo assolutamente dare, qui è il punto di partenza, il significato medico al controllo del biofilm batterico, anche perché ancora per la salute dentro parodontale il controllo del biofilm batterico sia domiciliare che meccanico e professionale ha assolutamente bisogno di avere una dignità all'interno delle terapie. Quindi questo significa che abbiamo nel microbiota orale, la ricerca ne ha trovati almeno 900 di specie batteriche, però come vedete poi gli scenari aumentano e quindi magari quando verranno fatti dopo il covid ricominceranno un attimo a porre l'attenzione su tutto quello che è la ricerca sul microbioma orale e la trasformazione microbiota, probabilmente nei ricercatori ne troveremo molti di più. E allora gli approcci tailor made devono essere espressi assolutamente nella terapia parodontale non chirurgica con elementi che devono andare dalla minima invasidità che deve dare l'equilibrio dell'ecosistema batterico in un approccio assolutamente ergonomico. Allora significa che quando parliamo di ergonomia ecco un altro orizzonte che si è aperto proprio a livello proprio medico e quindi non parlo solo del mondo dottoriatrico, io ho l'onore di appartenere a una delle università che storicamente in Europa è una fra le più antiche e autorevoli e allora sicuramente c'è l'orizzonte nuovo di dare opportunità e quindi di fare uno studio anche per chi praticamente si occupa di curare le persone. Quindi viene chiamata la cura per i curanti. come tipo di concetto, ma ne sentirete parlare e io spero che nei prossimi appuntamenti di avere l'opportunità di poter approfondire questo con, sono sicura, qualcosa che non solo vi servirà, perché siamo tutti in un momento particolare, siamo tutti molto stressati, quindi sapere che abbiamo l'opportunità di utilizzare dei brand che ci mettono a disposizione e queste tecnologie che sono molto sofisticate, che quindi ci permettono di ottimizzare quelle interazioni tra il comportamento umano e le prestazioni nell'insieme, di quello che è l'operatività clinica, sicuramente abbiamo un'alternativa per praticamente avere meno stress e quindi avere cura di noi curanti. Quando parliamo di ergonomia, quindi parliamo di una sorta di benessere, di salute, ma attenzione, un'altra cosa importante è la sicurezza, proprio per migliorare le prestazioni, non solo per il paziente, ma attenzione come vi ho già ribadito dell'operatore stesso. E allora già andare a scegliere l'ambiente che porta ad una sorta di attenzione, anche per esempio al riunito, perché il riunito per noi è come, tra virgolette, l'automobile, cioè della serie che è una di quelle macchine che utilizziamo quasi senza porre attenzione, in realtà è molto importante, perché se noi parliamo di tipologie di riuniti che ci danno l'opportunità di avere la chance, per esempio, di andare a modulare tutto quello che è in pratica poniamo anche il capo del paziente, che ci dà l'opportunità di lavorare sui frontali e quindi lavorando sui frontali nella zona inferiore abbiamo bisogno di fare un certo tipo di posizioni alla testa del paziente, poi ancora per andare nella zona dei retromolari, quindi mi devo spostare dalle ore 12 per lavorare nella zona dei frontali alle ore 9 e 10 per lavorare nella zona dei retromolari. Se io ho questa opportunità di avere addirittura anche reclinabile alcune posizioni della parte terminale del riunito, dove il paziente poggia praticamente il suo capo, questo vuol dire fare un lavoro ergonomico che mi permette non solo di avere una migliore visibilità, ma dà comfort anche al paziente. E quindi significa che se poi passiamo a situazioni per il controllo delle infezioni crociate avere dei comandi a pedale mi dà l'opportunità di evitare, di utilizzare e quindi andare ad inquinare altre situazioni perché posso farlo direttamente con un pedale. Allora anche riunito devi avere la sua attenzione nella scelta ergonomica perché parliamo di una disciplina che viene applicata nell'ergonomia fisica, attenzione anche quella cognitiva, perché molto spesso, perché ho fatto riferimento anche alla macchina? Perché noi guidiamo la macchina senza pensare quasi quasi, con un automatismo particolare, diventa la stessa cosa con il riunito. E allora se abbiamo un riunito che rispetta l'ergonomia fisica, quella cognitiva perché ci facilitano i comandi, è praticamente l'ergonomia organizzativa che in realtà mi dà tutta l'opportunità di processi che sono assolutamente facilitati, chiaramente io che cosa ho? L'opportunità di fare un buon lavoro perché sono meno stressata. A questo punto noi sappiamo che per fare una scelta sulle tecnologie, sugli approcci clinici, partiamo dalle evidenze scientifiche, quindi diffidate da tutte quelle tecnologie che non sono supportate da evidenze. Per carità di Dio, poi è importante l'esperienza e la capacità di giudizio che voi acquisite nella vostra sfida esperienziale, nella pratica clinica quotidiana. Però attenzione, il punto di partenza deve essere questo. e allora dobbiamo poi fare il conto anche con la preferenza e le aspettative del paziente. Scegliere delle tecnologie che diano un comfort particolare permetterà al paziente di avere un ricordo del follow up, della seduta di controllo positivo e quindi tornerà, diciamo, con meno anticorpi. È inutile dirvi che una delle cose fondamentali che in pratica in questo momento storico è ritornato e io sono molto contenta di questo è proprio quel rapporto di fidelizzazione tra professionista e paziente che deve essere sempre rispettato. A questo significa che voi tutti quanti sapete che io sono andata a controcorrente proponendo al di là di tutte quelle vecchie tecniche che erano del 1948, del 38 che facevano capo a tecnica di best modificata, tecnica di stile in mano quando le setole erano tutte dritte su un piano per cui erano vecchie tecnologie. Oggi con le nuove opportunità che abbiamo di tecnologie sofisticate con setole multilivello noi dobbiamo partire il nostro punto di riferimento è l'anatomia dei tessuti del paziente biotipo spesso, biotipo sottile, affollamento dentale, mancanza di elementi dentali. Sono tutte situazioni cliniche che ci devono portare a fare la scelta quindi non la scelta di un movimento ma la scelta di una tecnologia e quindi significa che nel protocollo di terapia parodontale non chirurgica un'altra cosa a cui ci tengo la valutazione clinica con esame intraorale della situazione parodontale utilizzando un rivelatore di placca che ci permette la topografia del biofilm batterico che è identificata dal professionista viene condivisa dal paziente e ci fa da guida per quello che è l'approccio clinico che dobbiamo avere non solo con l'igiene domiciliare da trasferire al paziente ma anche con l'igiene professionale e credetemi la tecnica che io ho definito di biotech è praticamente antecedente ad altre tecniche che si sono invece ispirate a questa mia e quindi non c'è bisogno di un ablatore particolare per fare questa tecnica perché la tecnica per fare questo tipo di tecnica basta avere un buon ablatore e basta scegliere un rivelatore di placca punto detto questo questo è l'approccio di biotech quindi Dental Biofilm Detection Topographic Technique che è quella che ha preceduto di qualche anno quello che poi successivamente è stato tra virgolette divulgato che altro non è che una posizione del rivelatore di placca andiamo a fare osservazione sulle zone più ritentive di placca che saranno la strada per fare un tipo di debridi ben parodontale e quindi di terapia parodontale non chirurgica più opportuna perché andrò a direzionare il mio interesse soprattutto in quelle zone dove il rivelatore mi ha praticamente visualizzato maggiore ritenzione di biofilm batterico ma ve ne dico anche un'altra la tecnica di biotech se io non avessi il rivelatore ma se ho una videocamera con le florescenze ce n'è una in particolare che ha praticamente tre florescenze quindi una luce bianca una luce arancione una luce blu ma mi dico anzi più che arancione scusatemi gialla ecco con la florescenza gialla anche senza mettere i rivelatori di placca io ho comunque la topografia del biofilm batterico e vado poi a direzionarmi con il tipo di ablatore che scelgo e la scelta dell'ablatore deve essere funzionale a che cosa? funzionale al tipo di lavoro che devo fare e praticamente la scelta si deve poggiare su quanto mi viene consigliato in maniera in pratica opportuna e a dimostrazione di questo che praticamente io dico ci sono in pratica dei case reports sul dental tribune sul cosmetic dentistry che parlavano già della tecnica mettendo a disposizione quello che era praticamente il protocollo clinico e la cosa che vi voglio sottolineare che la sottoscritta come tanti altri come tanti miei ex studenti hanno imparato con le lezioni fatte durante il loro iter formativo già utilizzavano la doppia aspirazione perché parliamo praticamente di che cosa parliamo in realtà di aspiratore e poi vedrete praticamente vi darò l'opportunità di poter vedere come la tecnologia poi ci ha dato una mano nell'andare a trovare delle soluzioni per andare a ripristinare quell'equilibrio dinamico tra difese dell'ospite e insulto infiammatorio che creano le ubiosi nel cavo orale a questo punto è inutile dirvi che la gestione del rischio deve essere attenzionata e in pratica bisogna considerare quei fattori esterni che sono anche condizionati dalla vita dei pazienti le loro prospettive o quei fattori interni che dipendono da noi come l'evoluzione tecnologica e scientifica e tutte quelle attrezzature che ci permettono di poter fare il nostro lavoro in maniera efficiente ma soprattutto efficace attenzione un nuovo scenario che non è poi nuovo in realtà è uno scenario che non è mai stato attenzionato abbastanza e adesso grazie alla nuova classificazione paradontale finalmente probabilmente in tanti se ne occuperanno le lesioni gengivali non indotte da placca che significa per fortuna avrò l'opportunità di poter tra qualche giorno in uscita il nuovo testo che ho condiviso con il professor Petruzzi che è un socioattivo della società italiana di patologia orale il professor Grassi la dottoressa Grassi per andare a parlare di tutte quelle situazioni cliniche che parlano di quelle gengivite che dipendono da patologie attenzioni sistemiche allora molto spesso quando noi andiamo a guardare una tipologia di di gengivite noi abbiamo fatto un buon debride parodontale il paziente torna al follow up e noi vediamo che nonostante lui sia stato tra virgolette efficace con la sua igiene domiciliare le gengivi appaiono ancora infiammate il paziente parla di dolenzia durante le pratiche cliniche allora ci dobbiamo chiedere se magari non sia una gengivite non indotta da placca e quindi a quel punto abbiamo bisogno ricordiamoci che noi genisti dentali lavoriamo sempre su indicazione di una diagnosi fatta dall'odontoiatra per poi fare una nostra diagnosi di prevenzione ma l'indicazione all'atto diagnostico è una responsabilità medica questo significa che sono molto contenta quindi sono sicura che vi piacerà tantissimo questa monografia perché farà parte di una collana che si chiama Chiusley Wasley cioè quindi la scelta giusta e quindi sarò proprio contenta di poter praticamente trasferire questo importante messaggio attenzione alla osservazione clinica della tipologia dell'infiammazione gengivale allora che scelta dobbiamo fare dobbiamo fare una scelta smart ma ci siamo mai soffermati a capire ma tante volte noi utilizziamo smart smart che vuol dire smart poi alla fine veloce certo che no io direi che il vero significato concettuale è proprio quello dell'intelligente quindi significa che quando noi andiamo ad utilizzare un approccio clinico particolare se scegliamo quella strumentazione che viene definita smart noi siamo abbiamo già fatto un buon 30% del nostro lavoro perché andremo a scegliere a fare una scelta giusta su quelle strumentazioni personalizzate a seconda della condizione clinica del momento su quel determinato paziente quindi in pratica anche qui vediamo che l'approccio tailored personalizzato e condiviso non è soltanto dello spazzolamento ma è anche di tutte quelle pratiche cliniche che devono che assicurano un buon mantenimento di salute del cavolare del paziente e allora tra queste permettetemi di dire che la tecnologia magnetostrittiva è sicuramente un tipo di tecnologia smart perché perché ha una facile tecnica di adattamento e soprattutto un miglior accesso clinico infatti che cosa cambia tra la strumentazione magnetostrittiva e la strumentazione pisoelettrica in realtà nella tecnologia magnetostrittiva la grande valenza vedete che qui c'è un'importante evidenza scientifica che è stata praticamente pubblicata sul journal clinical periodontology dice che l'oscillazione ellittica dell'ablazione magnetostrittiva permette di avere una superficie lavorante in tutta la punta in qualsiasi angolazione e quindi progettata per ridurre al minimo la regolazione del polso quando si sposta da dente a dente da sito a sito questo significa che dobbiamo porre attenzione sul fatto che noi utilizziamo per tanto tempo gli ablatori per cui avere questa tecnologia che ci permette uno smart scaling ci dà l'opportunità non solo di avere un tipo di lavoro molto più veloce perché io non ho bisogno di andare tra virgolette a cambiare ogni volta posizione con il polso ma ho la disponibilità di risparmiare del tempo essere più contento come operatore e trasferire anche la mia contentezza al paziente che ne ha dei vantaggi che adesso vedremo quindi significa che in realtà noi sappiamo che possiamo avere l'opportunità di avere tutte queste situazioni cliniche ma vediamole nel dettaglio vediamo che l'esperienza del paziente è un momento assolutamente da attenzionare sapete perché se io adesso dopo aver fatto tutta la mia disquisizione su quello che è in pratica il percorso che stiamo facendo oggi in questa chiacchierata finisco e vi dico mi raccomando vi ringrazio pensate a tutto tranne che all'elefante che all'elefante bianco che cosa succede voi di che cosa vi ricorderete vi ricorderete purtroppo dell'elefante bianco voi potete essere stati bravissimi aver avuto tutto un approccio delicato con il paziente ma attenzione basterà una piccola situazione di sconfort che il paziente si ricorderà di non di tutto quello che è stato il vostro percorso per permettere un lavoro efficiente efficace ma si ricorderà purtroppo di quel discomfort quindi significa che se io comincio ad avere comfort già da come il paziente si è seduto in poltrona col fatto che io non debba andare praticamente a cambiare troppe posizioni e quindi faccio un lavoro più veloce cioè ci sono tanti vantaggi compreso quello di mettere a disposizione per esempio per chi purtroppo ha il problema di non sopportare la sensibilità sulle superfici dentali persino una tipologia di anestesia che non deve essere inaculata quindi dove non c'è la puntura del lago chiaramente il paziente avrà una sorta di comfort che lo riporterà più facilmente al follow up e allora quando noi parliamo di approccio basato sull'evidenza dobbiamo pensare alle migliori prove scientifiche disponibili e ce ne sono l'esperienza vostra clinica avete a disposizione anche l'opportunità di poter provare con delle demo io spero che con la display di riuscire a fare invece che i webinar qualcosa fatta in presenza magari anche con l'approccio diciamo pratico sulla strumentazione ma attenzione anche l'evidenza scientifica ha supportato anche le preferenze del paziente con l'utilizzo di questa tipologia smart e allora io devo praticamente avere la capacità di entrare in contatto con la superficie radicolare l'efficacia nella rimozione dei depositi l'efficacia anche delicata lungo la superficie radicolare il comfort del paziente e attenzione l'ergonomia che non deve essere dedicata solo al paziente ma anche al curante allora nella strumentazione ultrasonica se io ho l'opportunità di avere una strumentazione che mi permette di essere delicata per esempio in odontità pediatrica ma è ugualmente efficace in situazioni di prevenzione terziaria dove ho un tartaro molto antico nel cavo orale io sono sicura di riuscire praticamente ad avere un tipo di approccio molto più soddisfacente per l'operatore e per il paziente stesso allora c'è questo studio che in pratica ha messo in evidenza che il 74% dei pazienti ha sicuramente preferito lo schelim ultrasonico rispetto alla strumentazione manuale guardate che negli anni 80 che io ho vissuto faceva Schick parlare solo ed esclusivamente della strumentazione manuale addirittura gli appuntamenti venivano praticamente seguiti a quadranti per cui praticamente si parlava addirittura di tantissimi appuntamenti e quindi quasi quasi c'era una sorta di tra virgolette così anticorpo verso la strumentazione ultrasonica è successo che poi invece l'evidenza scientifica ha dato ragione a praticamente quello che è la valenza della strumentazione meccanica rispetto a quella manuale perché la manuale è risultata con molte evidenze scientifiche molto più aggressiva e in pratica la strumentazione ultrasonica è questo tipo di strumentazione ultrasonica che stiamo presentando adesso ne è assolutamente prova noi riusciamo a fare un tipo di lavoro efficace dove in pratica il paziente ha maggiore comfort ma soprattutto mi permette di andare ad essere efficace ma ad avere la felicità del paziente nel non soffrire così tanto allora attenzione non vi sto dicendo che la strumentazione manuale non va assolutamente utilizzata vi sto soltanto dicendo che la maggior parte del lavoro può essere fatto tranquillamente con la strumentazione ultrasonica meccanica quindi e in pratica possiamo andare a tra virgolette implementarla lì dove la sonda ci ha tra virgolette trasferito il messaggio che c'è bisogno di andare in una maniera un po' particolare anche sotto giudice pensiamo a queste tasche che superano i 6 mm per esempio e allora andare a implementare la strumentazione ultrasonica con quella manuale quindi qual è il vantaggio quello di avere di scegliere una tecnologia che mi dia l'opportunità di poter selezionare gli strumenti perché in realtà dobbiamo avere l'opportunità di scegliere intanto che 2-3 mm della punta dell'inserto deve rimanere a contatto con la struttura del dente l'angolazione massima da 0 a 15 gradi e attenzione i movimenti devono essere di 1-2 mm tutti sovrapposti in direzione orizzontale verticale e orizzontale proprio per non andare a tralasciare nessun punto e quello vediamo meglio nel dettaglio vediamo praticamente che in realtà se io vado random quindi senza avere una sorta di sovrapposizione per avere una copertura completa di tutte le aree che devo andare a decontaminare io praticamente non avrò assolutamente un tipo di lavoro efficace questo significa che invece devo mantenere un'angolazione che va da 0 a 15 gradi guardate perché l'attivazione è questa e non certo questa quindi devo andare in pratica a tenere sempre nella manualità piccoli piccoli movimenti molto piccini piccini che ci permettono di andare quasi quasi a disegnare come se avessimo una matita che deve andare tra virgolette a colorare lungo la superficie radicolare quindi l'altro vantaggio di questo tipo di strumentazione è che attiva dappertutto e quindi significa che io ho delle punte che mi permettono di lavorare bene dove ma soprattutto negli spazi interprossimali dove troviamo noi maggiormente il tartaro lo troviamo proprio a livello degli spazi interprossimali quindi l'adattamento dell'inserto come se fosse uno scaler è assolutamente importante perché in pratica con questa tipologia di punte noi abbiamo la facilità proprio di accesso nelle aree più difficili che tipo di movimento ha il laboratore magnetostruttivo ha un movimento ellittico della punta ok quindi significa che nell'approccio alla rimozione del tartaro ecco vedete che qui si vede bene dal punto di vista grafico che cosa poi può portare in pratica un tipo di lavoro fatto così a casaccio perché potrebbe lasciare al di sotto in pratica questo tipo di situazione che va sempre evitata detto questo che cosa praticamente dobbiamo abbiamo come ulteriore opportunità il livello di potenza che cosa fa il livello di potenza va a determinare l'ampiezza del movimento dell'oscillazione della punta allora significa che abbiamo nel cavitron 300 che è in pratica la tecnologia top di gamma no della sinoda dense ply l'opportunità di andare a calibrare la potenza e avere anche l'opportunità di avere delle punte dedicate a condizioni di situazioni cliniche completamente differenti andiamo a vedere nel dettaglio vediamo come ecco quello che dovete riuscire a capire che chiaramente il tipo voi immaginate in proiezione qui la superficie radicolare allora significa che i piccoli movimenti abbiamo visto che i movimenti devono andare in tutte le direzioni devono essere piccoli e ripetuti quindi praticamente dobbiamo avere la lunghezza del movimento che massimo deve arrivare a 2 o 3 millimetri tutto ciò ci permette di fare dei piccoli movimenti ma soprattutto frequenti e in pratica questo ci dà l'opportunità di andare a disgregare veramente il tartaro la superficie laterale è appoggiata alla superficie del dente questo ricordiamoci che qual è la differenza con il pigio elettrico con il pigio elettrico noi possiamo lavorare solo con la parte laterale destra e sinistra ma non di dorso per cui praticamente abbiamo purtroppo con il pigio elettrico una sorta di acquisizione di manualità nel cambiare posizione al polso quindi tutti questi movimenti in pratica non fanno altro che andare a danneggiare anche con l'andata del tempo il benessere e procurare la sindrome del tuner cartare ma torniamo alla nostra punta quindi vediamo qui come ben disegnato nella parte grafica proprio i movimenti piccoli e ripetuti che permettono di andare anche in queste situazioni abbastanza critiche vedete come la punta così sottile riesce a seguire proprio l'anatomia della superficie radicolare andiamo a vedere quanto sia importante capire quale punta devo scegliere quindi anzi più che punta in questo caso è più corretto parlare di inserto quale inserto posso praticamente inserire perché vediamo che qui c'è la punta il gambo il pacco lamellare allora andiamo a vedere inutile dirvi che per esempio in un paziente del genere io avrò l'opportunità di poter cambiare a seconda della zona dove devo andare a strumentare punta perché praticamente avrò una sorta di efficacia completamente diversa come in base a che cosa seleziono l'inserto in base al tipo di deposito perché posso scegliere quello standard se ho grosse concrezioni di tartaro quegli strumenti consigliati slim se in pratica ho un tipo di paziente che ritorna al follow up quindi significa che di regola non dovrei trovare grosse concrezioni di tartaro altra cosa da consigliare è l'ampiezza che praticamente dà il diametro della punta e la lunghezza del movimento andiamo a vedere in dettaglio nel caso in cui io ho praticamente un tipo di per esempio il biotipo tessutale è una cosa che va assolutamente considerata come va considerata anche l'ampiezza biologica di che cosa dello spazio antiprossimale allora per esempio in un tessuto gengivale biotipo sottile io che cosa andrò andrò con le tradizionali o con le slim beh sicuramente con le slim perché mi daranno l'opportunità di entrare meglio in maniera più agevole e sarò avrò più comfort per il paziente stesso evidente che in un biotipo spesso potrò andare tranquillamente con una punta standard e soltanto nei richiami utilizzare le punte slim detto questo quindi parliamo di start della terapia con il debride iniziale con quegli inserti che vengono chiamati in questa gamma power line blue e per quanto riguarda invece tutto quello che è un debride per i richiami per quello che identifichiamo come follow up gli inserti slim line quindi della linea verde ma attenzione c'ho anche l'opportunità di avere no la parte della punta dello strumento anche curvi perché cosa mi serviranno ma assolutamente per andare meglio nella zona dei retromolari che sono sempre molto difficoltosi no da andare a praticamente usare e allora significa che quello che noi dobbiamo considerare cos'è dobbiamo osservare anche le punte che è evidente che già guardandole vediamo che c'è una sorta di differenza e quindi il biotipo sottile io andrò con questo se io devo togliere anche un un piccolo una piccola discromia in maniera delicata un colpo con una piccola in maniera molto soft ci posso andare anche con la punta quindi ci vuole una sorta di abitudine ad avere in pratica l'osservazione clinica di quello che mi serve su quel paziente in quel momento perché in realtà avere l'opportunità di avere una scelta tra tutto ciò che viene utilizzato diciamo in prima seduta con grosse concrezioni di tartara nelle sedute di routine o addirittura nei follow up dove c'è delle condizioni di delicatezza chiaramente è un grandissimo vantaggio e quindi diciamo che depositi moderati e consistenti depositi moderati e lievi biofilm batterico quindi e depositi lievi con questa che io adoro perché è la è la Tinsert che dà l'opportunità davvero di poter andare a compiere un mondo ebraime soprattutto nel biotipo sottile e soprattutto nel paziente che ha affolamento dentale e soprattutto nello spazio interprossimale allora significa che un'altra cosa che voglio attenzionare assolutamente l'usura dell'inserto è stato dimostrato che praticamente abbiamo l'opportunità di poter controllare la scheda di misurazione ma purtroppo è una cosa che non facciamo mai e io in questo mi ci metto nel libro nero di quelli che non controllano perché in realtà c'è un'usura degli strumenti che deve essere considerata e questo dipende da praticamente quanto tempo noi lo utilizziamo ma anche dalla forza che praticamente applichiamo quindi questo va controllato assolutamente altra cosa quando i pazienti ci dicono ma io ho sensibilità e non bisogna insistere dire no ma non succede niente guardi proviamo perché ci abbiamo alcuni pazienti che hanno una soglia di dolore assolutamente più importante degli altri sapete che poi se entriamo nella così nella situazione di controllo dell'ipersensibilità io sono molto felice di aver editato con la EDRA per la GSK una monografia dedicata tutta all'approccio personalizzato sull'ipersensibilità dentinale che parla proprio di questo allora avere a disposizione un anestetico topico che grazie a Dio può essere utilizzato dall'igienista dentale perché praticamente non viene considerato un farmaco quindi a quel punto che cosa praticamente io ho l'opportunità di andare ad utilizzare il presidio all'interno della tasca quindi scendo all'interno della tasca risalgo appena appena con l'ago quindi vado in pratica a tra virgolette lasciare entrare nella tasca in pratica il gel parodontale che è fatto tra i componenti alidocaina e prilocaina intanto è sicuro per i tessuti infiammati poi agisce appena dopo 30 secondi quindi il tempo di lasciare un attimo il paziente così relax e ho 20 minuti per poter praticamente lavorare questo è un grande vantaggio se proprio il paziente insiste ed è abituato a a farsi fare l'anestetico dall'odontoiatra noi per avere anche un valore aggiunto lì dove il paziente non riesce comunque a raggiungere i livelli di tra virgolette tranquillità sulla sensibilità possiamo anche aggiungere nella nella tasca da trattare l'ora questo quando il paziente ce lo racconta un fondo di verità ce l'ha perché la trasmissione della sensazione di paura riguarda tutti quindi che cosa succede succede che c'è un blocco dell'impulso nervoso quindi a livello cellulare questo avviene bloccando i canali del sodio nelle membrane nervose quando è arrivato il sodio il nervo non può condurre l'impulso e quindi non dà nessuna sensazione trasmessa e quindi questo mette il paziente bello e controllato però abbiamo anche in pratica un'altra un'altra opportunità inutile dirvi che l'ipersensibilità c'è con l'esposizione della dentina con le recessioni gengivali nella demializzazione dello smalto nell'erosione che oggi è molto c'è chi è che non c'è un po' di stress e chi è che non c'è un po' di reflusso gastroesofageo sappiamo che la teoria di Brankston che è quella che con gli stimoli esterni fa muovere il liquido all'interno muovendo praticamente le terminazioni nervose delle fibre di Thomas si ha praticamente il fastidio tutto ciò può essere praticamente anche dove non vogliamo inserire l'anestetico nella tasca perché magari non ci sono tasche ma c'è comunque una sensibilità possiamo utilizzare delle paste che vedete sono codificate codice colore a seconda della differente granulometria che in pratica oltre che per metterci un pollice in selettivo o prima per fare il deplaking o successivamente alla seduta proprio per andare praticamente a tra virgolette tranquillizzare la paziente e dare un minimo praticamente di riduzione del fastidio del trasferimento conosciamo tutti la molecola del novamin che è fosfollicato di sodio di calcio quindi calcio e fosforo stabilizzati al vetro bioattivo quindi quello che viene definito il silice che forma uno strato minerale simile allo smalto e quindi praticamente oltre a togliere la sensibilità alla fine diventa anche un riparatore abbiamo in pratica parlato di tutto quello che c'è di innovazione perché chiaramente se se siamo al passo con i tempi dobbiamo assolutamente avere l'obbligatorietà di modificare l'approccio clinico vedete questa è una mia immagine del 1980 come vedete io già usavo la visiera non c'era l'obbligatorietà della mascherina quindi ho la mascherina o la visiera quindi già questa è la prima criticità vedete che alle pareti c'erano addirittura pareti di stoffa perché facevano molto chic ma pensate oggi avere praticamente un tipo di tessuto fashion in uno studio non si può vedere vedete che ancora la prevenzione veniva fatta con il boccone noi oggi sappiamo che non è possibile perché il typodont va bene per un tipo di profilassi collettiva e vedete come per fare la floroprofilassi si veniva utilizzato lo ionator i tempi liscianali sono cambiati perché abbiamo avuto praticamente una sorta di rivoluzione adesso più che mai con l'avvento del covid è inutile parlarvi che praticamente di quanto tutti quanti abbiamo paura i primi sono i pazienti ma quello che vi volevo in pratica sottolineare che in realtà noi siamo sempre stati attenti al controllo delle procedure questo significa che già il ministro della salute ci ha dato delle linee guida ma noi eravamo già abituati al controllo delle infezioni per la tubercolosi morbillo l'herpes quindi adesso per noi la fuoriuscita di aerosol è assolutamente in linea con quanto già noi avevamo praticamente sempre tra virgolette attenzionato e chiaramente oggi il pericolo è che non si conosce ancora diciamo la tipologia del virus cioè della serie che non si conoscono praticamente tutte le le motivazioni che portano a magari avere degli approcci clinici un po' particolari perché tutto ciò che è stato fatto purtroppo è stato fatto esclusivamente per la maggior parte dei casi con guardando la letteratura è soltanto in vitro il problema sarà quando riusciremo a fare ricerca in vivo sul virus detto questo è inutile dirvi che ci sono praticamente queste condizioni che portano a dire che scusate vado velocemente sapete perché ecco forse sono andata perché di questo ne parla tutto il giorno la tv su tutti i social su tutti cosa dobbiamo andare a guardare le evidenze scientifiche cosa ci dicono le evidenze scientifiche ci dicono che comunque dobbiamo utilizzare il colluttorio prima di al di là di prendere la temperatura il triage quelle sono le indicazioni che già ci sono state ben descritte dal ministero praticamente della salute dal tavolo tecnico dontoiatrico in realtà quello che posso in pratica andare a sottolineare è che in realtà ci sono quello che noi facevamo prima di far di riuscire ad andare con il il tipo di utilizzo di colluttorio facendo in pratica uno sciacquo di colluttorio prima lo facevamo con la clorexidina quindi facevamo due sciacqui di un minuto l'uno di colluttorio alla clorexidina per andare ad abbassare la carica batterica e quello era un tipo di protocollo che in realtà aveva dato Venstrong proprio per permettere di non nebulizzare nell'ambiente i batteri oggi noi abbiamo il virus allora su quell'evidenza importante che vi ho sottolineato cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che ci sono alcune sostanze che tipo il cetilpidinio cloruro lo iodio povidone l'acqua ossigenata che sono attivi sul virus attenzione in realtà per fortuna abbiamo anche dei colluttori che oltre alla clorexidina hanno anche il cetilpidinio cloruro quindi in realtà se noi continuiamo come qualcuno di noi già faceva a prima ancora che il paziente sia seduto in poltrona riuscire a far usare il ecco un minuto con povidone allo 0,2 all'1% il cloruro di cetilpidinio allo 0,5 o allo 0,1% o il perossido di idrogeno all'1% prima della procedura dentale esattamente come facevamo prima con la clorexidina noi abbiamo l'opportunità di lavorare diciamo sereni è inutile dirvi che avere l'opportunità di ariatori che siano però tra virgolette sedi è assolutamente opportuno come sarà opportuno lì dove è possibile lavorare con le finestre aperte però attenzione non è la terapia parodontale non chirurgica che mette a rischio sono tutte le operatività cliniche in odontoiatria perché su questo sono state prodotte evidenze dove hanno dimostrato che la terapia parodontale non chirurgica è praticamente al pari a proposito dell'inquinamento ambientale esattamente come tante altre procedure questo significa che è inutile dirvi che dire al paziente per esempio la sera prima della seduta in studio se in pratica il paziente va a usare il colluttorio particolare attenzione noi arriviamo anche ad avere un tipo di approccio quando entra in studio assolutamente molto controllato in sicurezza sapete il problema qual è che molto spesso noi abbiamo identificato che cosa abbiamo identificato il colluttorio come un'opzione il colluttorio è importante al pari degli spazzolini scovolini fili per il controllo del biofilm batterico quindi sistemi di sicurezza non mi sto nemmeno tanto a soffermare perché guardate questa immagine questa immagine è una mia immagine vecchia del praticamente 2000 mi sembra che questa sia del 2016 e allora guardate praticamente già il tipo di doppia aspirazione stiamo parlando del 2016 non c'è del covid vediamo gli occhiali vediamo la mascherina che io mettevo qui proprio per evitare che la paziente avesse così il disagio di avere in pratica gli spruzzi nel volto quindi significa che quando abbiamo problemi di aspirazione basterà andare intanto a contenere tutto quello che può essere la dispersione utilizzando di routine la cannula pure che ha il vantaggio di avere la parte dello specchietto possiamo divaricare ma soprattutto mi deve praticamente andare senza contare che è autoclavabile quindi è sicura allora abbiamo l'opportunità di seguire quello che è il flusso di qualsiasi situazione a rischio e pensate che riesce in pratica a tenere sotto controllo il 90% praticamente di quello che viene nebulizzato è inutile dirvi che deve seguire l'operatività clinica a seconda di come mi sposto ma poi voglio dire molto facile e intuitivo stessa cosa se vado a fare per esempio un pollice in selettivo quindi ho la cannula che mi va a seguire perché è vero che guardate che qui c'è l'aspirazione chirurgica con l'aspirazione della cannula allora è inutile dirvi che nelle situazioni cliniche io vado a in pratica osservare i tessuti dopodiché a seconda della tipologia praticamente di quello che ho qui vediamo che il tartaro è bello congruo quindi comincerò con che cosa con la power line blu vedete il tartaro com'è bello tenace sia nella parte linguale che nella parte palatale a questo punto prima ancora posso praticamente andare a iniettare che cosa in maniera molto semplice il la l'anestetico a questo punto vado con il mio di biotech con la sonda vado a sentire lì quelle zone che mi ha già segnalato rivelatore di placca vado a fare un deplacking o un deplacking fatto con l'air polishing o con il polishing selettivo forse oggi se avete paura praticamente di essere poco tra virgolette un po' più a rischio con l'air polishing ma esiste anche il polishing selettivo che va ugualmente bene vedete come alla seconda seduta si può passare alla linea degli slimline verdi oppure nella stessa seduta ci può essere la grossa concrezione all'interno palatale linguale piuttosto che praticamente andare a usare in queste zone una strumentazione molto più soft ricordiamoci ricordiamoci che la sonda paradontale è un buon controllo ma addirittura sapete che cosa che cosa è opportuno alcune volte con in pratica la quando vedo che gli spazi interprossimali vedete hanno del tartaro qui già vi deve venire in mente che se qui utilizzo praticamente la il tipo di punta dedicata proprio a un tipo di tartaro medio potrò praticamente andare ad utilizzare poi vedete posso passare da un colore all'altro perché cosa a seconda di quello che voglio fare quindi deve essere un tipo di tra virgolette scelta ragionata vedete come invece posso andare in queste situazioni di depositi lievi vedete quando c'è uno è vero che questo è un biotipo spesso però in questa situazione dove c'è la recessione gengivale io ho l'inserto che io adoro che è praticamente il t-set che mi dà l'opportunità di poter in maniera delicata andare in questa zona della recessione gengivale e quindi significa che lo strumento giusto sulla tipologia di poi posso implementare con uno sbiancamento smart piuttosto che con seduta di fototerapia in realtà io cosa devo fare devo scegliere in maniera opportuna quelli che sono in pratica i vantaggi di avere tutta una sorta di strumentazione che mi permette che cosa mi permette di andare a rispettare quello che è la richiesta diciamo che la situazione clinica mi prevede e quindi concludo dicendo che una tecnologia che mi permetta di poter scegliere e quindi nello stesso cavorale avere l'opportunità di fare un lavoro efficace utilizzando in tutte le posizioni anche praticamente per esempio il dorso dello strumento è un vantaggio che viene definito assolutamente ergonomico se ho la punta molto sottile parliamo anche di minimamente invasivo se parliamo poi anche della condizione che mi porta anche ad abbassare la quello che è la situazione della intensità dell'impulso dell'abblatore vuol dire che sto facendo un tipo di lavoro smart e quindi concludo dicendo che chi è un professionista il professionista è colui che conosce la scopo di quello che fa il fine ultimo quindi del proprio lavoro possiede le tecnologie e il metodo per perseguirlo conosce le implicazioni scientifiche etiche sociali ed economiche di queste tecnologie in virtù di tutto ciò fa la scelta adeguata quindi quella che io chiamo la scelta giusta grazie adesso ditemi se ci sono delle domande allora ci sono rispondo alla domanda di Luciana Vitale intanto buonasera Luciana contenta del tuo collegamento per questo argomento Luciana ci chiede ci sono controindicazioni all'utilizzo dell'anestetico topico ma assolutamente no è chiaro che in pratica qualsiasi condizione che ci permetta praticamente di avere una situazione di sicurezza che cosa ce lo dà ce lo dà il fatto che noi dobbiamo avere indicazione su quello che usiamo da chi dall'odontoiatra perché ricordiamoci che in alcuni casi dove il paziente ha assolutamente delle situazioni a livello sistemico con patologie che certe volte abbiamo anche patologie rare il consiglio che io vi do è quello di tra virgolette andare a condividere la scelta di poter proporre un tipo di approccio clinico assolutamente con l'odontoiatra ma direi che assolutamente non ce n'è anche perché rimane all'interno come ho già spiegato all'interno della della tasca parodontale per cui praticamente non c'è assolutamente nessun tipo di fastidio ma vi dico anche di più lì dove non ci sia una tasca ma c'è un'infiammazione quindi i tessuti sono ce lo permettono possiamo anche andare a metterne un proprio un tantinello proprio per togliere diciamo il problema della sensibilità altrimenti come ho già detto potete fare un deplucking con con il polishing selettivo prima della seduta è arrivata un'altra domanda sempre di Luciana ci sono dunque per chi inizia ora la professione quanti inserti consiglia allora guardate che c'è un vecchio detto che dice chi ben comincia è a metà dell'opera quindi assolutamente io dico che averne diciamo di base le tre opportunità quindi per quel tartaro congro piuttosto che in pratica un tipo di di inserto che ci deve servire per il biotipo tessutale sottile è assolutamente importante allora c'è qualcuno che chiede ma cambiare diverse punte per uno stesso paziente non può essere poco ergonomico assolutamente no sapete perché innanzitutto se noi abbiamo l'opportunità di avere più punte e quindi di utilizzare la punta giusta sul sito giusto di porzione di di dente nel cavo orale io le consumo meno e quindi bisogna poi mettere nel piatto della bilancia che noi facciamo i conti sulla efficacia del trattamento guardate c'è una bella differenza tra l'efficienza e l'efficacia l'efficienza è quella che ci porta a dire ok io ho fatto tutto quello che ho imparato nel mio percorso formativo e sono contenta così l'efficacia è quella che ci porta il risultato e quando voi proverete chiedete di fare delle demo se dovete scegliere diciamo di inserire all'interno dello studio un abblatore io quello che vi posso dire è che sono molto legata a questo brand perché è stato il primo abblatore che la sottoscritta ha tenuto tra le mani proprio per fare questo tipo di lavoro e a differenza vostra io non avevo altri igienisti dentali che potressero trasferirmi diciamo la loro formazione quindi quello che ho imparato è proprio usando lo strumento e vi posso dire che il fatto di avere l'opportunità di gestione della punta anche nella parte diciamo del dorso e quindi avere questi strumenti che tra tutti erano poi alla fine quelli più sottili è stato assolutamente un vantaggio io dico che se dobbiamo fare ergonomia non possiamo farla su quegli strumenti che sono fondamentali perché la terapia parodontale non chirurgica che sia in prevenzione primaria secondaria o terziaria è alla base di qualsiasi tipo di terapia ci sono altre domande chiaramente se qualcuno ha bisogno anche di avere dei chiarimenti ulteriori potete in pratica scrivere alla Siluna Desplay oppure avrò l'opportunità di poter poi avere dalla Desplay le vostre richieste e quindi spero proprio di essere riuscita a trasferire quello che è proprio il senso del del lavoro ergonomico ma vedo che ci sono ecco per una diagnosi preventiva qual è la telecamera intraorale più adatta ma allora ce ne sono diverse ce ne sono alcune che guardano una serie di situazioni cliniche che vanno dalla condizione clinica così com'è come la vedete poi c'è una florescenza che invece serve per andare a tra virgolette captare la zona infiammata o il biofilm batterico e l'altra florescenza blu che praticamente mi va ad intercettare un processo carioso attivo quindi io direi che in pratica questo tipo di videocamera che ha tutte e tre queste opportunità è sicuramente più opportuna ecco grazie comunque per per i complimenti vediamo se c'è ancora qualche altra domanda credo di di no quindi a questo punto io direi che forse posso augurarvi di passare praticamente ad un momento dove ci possiamo vedere dal vivo e io vorrei far ritornare la dottoressa Francesca Mancini che ringrazio per avermi dato questa opportunità e spero tanto di potervi preparare un progetto di cui sentirete parlare molto presto che vi piacerà moltissimo io vi saluto vi auguro un futuro pieno di successi ma soprattutto pieno di tanta serenità grazie Sirona grazie a voi tutti che siete stati in collegamento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti